UNITE è l'acronimo di Università della Terza Età. È un'iniziativa che l'Università di Genova porta avanti da circa 30 anni per promuovere l'invecchiamento attivo della popolazione. Pur non rilasciando un titolo di studio accademico, l'attività di UNITE permette agli studenti di fruire di un'offerta diversificata e di alta qualità per quanto riguarda l'insegnamento di moduli accademici. Si possono iscrivere ad UNITE tutti gli studenti con più di 45 anni. Consiglierei UNITE perché prima di tutto tiene allenata la mente, poi si socializza e poi si imparano sempre tante cose. L'offerta formativa di UNITE si compone di moduli all'interno di aree, in questo caso sono attivate all'interno di UNITE l'area di ingegneria, l'area di architettura, l'area di scienze matematiche e fisiche naturali, l'area di scienze mediche e farmaceutiche, l'area di scienze umanistiche e l'area di scienze sociali. Oltre ai corsi di area è possibile fruire di corsi integrativi. I corsi integrativi che sono attivati sono al momento lingue e letteratura latina, cultura musicale, teorie tecniche del disegno e dell'attentura e storia dell'arte. Infine è possibile fruire di corsi di lingua a livello base o avanzato nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco. Per noi è un punto d'arrivo talmente grande, forte, anche per rispetto per i nostri figli, per la nostra famiglia, per far vedere che noi valiamo qualcosa, per dare il modo di essere orgogliosi di noi. Perché iscriversi a UNITE? Iscriversi a UNITE può essere utile per continuare a tenere allenata la mente, per scoprire cose nuove e per socializzare e conoscere persone e scoprire anche all'interno della città delle offerte culturali in convenzione con il cinema, con i teatri e con i musei. Ritengo che sia una cosa importante iscriversi e partecipare all'attività di UNITE perché permette di mantenersi giovani, che è la cosa più bella. Si frequentano ambienti giovanili perché si sta nell'ambiente universitario che per conto di un ambiente ideale, si conoscono nuove persone e si apprendono delle cose che prima magari eventualmente non avevi seguito per le tue scelte di vita o di lavoro. Quando è possibile iscriversi ad UNITE? Per l'anno accademico 2019-2020 è possibile iscriversi ad UNITE dal 17 settembre al 17 ottobre attraverso il sito internet www.unite.unig.it oppure presso lo sportello che sarà attivato in via del campo 59 Rosso.